Nato l'8 novembre 1995, Matthew William Short si è affermato come una delle promesse nel mondo del cricket australiano. Attualmente rappresenta lo stato di vittoria e gioca per gli Adelaide Strikers nella Big Bash League, BBL, dopo una precedente esperienza con i Melbourne Renegades. Short ha iniziato il suo percorso nel cricket internazionale nel 2014, facendo il suo debutto con il National Performance Squad dell'Australia contro il Sudafrica durante la serie quadrangolare del team Australia a da quel momento, ha costantemente mostrato un talento straordinario. Il suo debutto in prima classe è avvenuto nel 2015 con il Cricket Australia 11 in un tour contro la Nuova Zelanda, ma è stato il suo eccezionale gioco nel novembre 2017, segnando 51 e poi 134 non-out, che lo ha messo in luce. Non solo ha dimostrato le sue capacità nel battitore, ma ha anche brillato con il lancio, ottenendo 4 fratto 103. Il 2019 lo ha visto impegnato in Inghilterra presso il Cogshall Town 200, dove ha raccolto oltre 1.100 run con una media di 55. La stagione BBL 2021-2022 ha segnato una svolta nella sua carriera, poiché è passato dalla parte centrale dell'ordine per aprire la battuta. Ha concluso la stagione con un notevole secondo posto per il maggior numero di 60, 26, e il terzo per il maggior numero di punti, 493. Questo spostamento è stato celebrato dal capitano degli Strikers, Peter Seedle, che ha lodato la determinazione e la bravura di Short. Il 5 gennaio 2023, Short ha scritto un capitolo memorabile nella storia della BBL. Capitanando gli Strikers in assenza di Peter Seedle, ha segnato il suo primo secolo nel Big Bash League, un incredibile 100 da 59 palle, stabilendo il record per il più alto inseguimento nella storia della competizione con 230 corse totali. Non solo ha brillato con il bastone, ma ha anche contribuito con le sue prestazioni di lancio, ottenendo cifre di 1 fratto 34 in 4 overs. Questi successi hanno portato a ulteriori riconoscimenti per Short, che è stato nominato giocatore del torneo nella BBL 12 agli Australian Cricket Awards nel gennaio 2023. La sua carriera continua a salire, e nel marzo 2023, è stato ingaggiato dai Punjab Kings per la Premier League Indiana 2023 come sostituto per Johnny Byrstow. Il 22 settembre 2023, Short ha fatto il suo debutto negli Odi contro la nazionale indiana di cricket, un traguardo che ha ulteriormente sottolineato il suo talento e la sua crescente importanza nel panorama del cricket internazionale. Grazie. 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 Grazie.